Ciao a tutti amici, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Dada Sims e oggi altro video in collaborazione con il gruppo Plumbo Land. Sigla! Questa collaborazione consiste nel creare la propria Simself e vestirla per andare a una festa di carnevale. Ora, io già avevo la mia Simself, l'ho voluta rifare e ho cercato di fare il più in fretta possibile, secondo me non mi assomiglia per niente e ci ho anche messo tempo. Inoltre vi volevo dire che ci sono delle novità riguardo il nostro gruppo Plumbo Land, abbiamo aperto il profilo Instagram, ogni mese ci saranno delle collaborazioni con voi, tra qualche giorno uscirà il primo post sulla prima collaborazione che faremo tutti insieme, quindi mi raccomando andate sul nostro profilo, seguiteci, seguite i nostri video sul canale YouTube, sull'info box ci saranno gli orari di tutte le altre ragazze che collaborano con me, tutti i video riguardo questa collaborazione di carnevale. Che altro dire, continuate a guardare il video, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non ancora vi siete iscritti, lasciate un like se vi è piaciuto il video, condividete in modo da aumentare la visibilità del mio canale. Un bacione e ciccione a tutti, vi lascio alla sigla della collaborazione, ciao! Un bacione e ciccione a tutti, vi lascio alla prossima! Un bacione e ciccione a tutti! 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 Una c소ca di ciccione a tutti! Perché un bacione e ciccione a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.